ha parlato De Laurentiis signori, ha parlato quel porco di De Laurentiis ed ha parlato del nuovo mister del Napoli che non sarà con Seisau lo ha annunciato lui, con Seisau non sarà il nuovo mister del Napoli un nome completamente falso secondo lui effettivamente i giornalisti, ma io li chiamerei giornalai avevano fatto nelle ultime ore un passo indietro sul nome di Con Seisau un grande passo indietro perché due giorni fa parlavano di un nome certo lui era già l'allenatore del Napoli secondo loro poi già domani Corriere dello Sport e Mediaset hanno fatto un passo indietro totale e hanno detto che addirittura era tutto saltato che il mister aveva scoperto che l'accordo era saltato tra Porto e Napoli tutto era saltato in hotel, quindi lui aveva scoperto questa cosa era tornato in Portogallo, tutto saltato ad ogni modo se il nome era vero o no ad annunciare se fosse vero o no ci ha pensato De Laurentiis che come ha detto ha smentito il nome cioè lui ha dichiarato proprio che non ha mai sentito neanche per una volta l'allenatore quindi non c'è stato proprio nessun contatto, almeno a suo dire la notizia bomba però di questo video ragazzi non è tanto la smentita su Con Seisau che ci poteva anche stare perché siamo abituati a sentire De Laurentiis che smentisce gente ma che De Laurentiis ha annunciato che il nuovo allenatore lo ha già scelto lo ha già preso e che lo annuncerà la settimana prossima ora, io mi pongo due domande uno, perché lo annunci la settimana prossima e due, chi è questo allenatore? allora, di nomi papabili sul mercato ce ne sono tantissimi e lo sappiamo da Spalletti, da Allegri, a Sarri, a pure Juric a tantissima gente ci sta ragazzi saranno almeno 7-8 allenatori buoni da poter prendere il problema è chi è e su questa domanda non voglio tanto soffermarmi perché tra una settimana lo scopriremo e quindi sono felice la domanda che mi pongo è Gattuso oggi è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina tra le altre cose è stato annunciato praticamente subito cioè il Napoli neanche un giorno fa è uscito dalla Champions e oggi già è stato annunciato Gattuso alla Fiorentina perché il Napoli ci mette una settimana per annunciare il nuovo allenatore? o si tratta di pratiche burocratiche oppure perché per esempio l'allenatore deve arrivare da lontano quindi deve effettuare traslochi e roba del genere e quindi ci vuole un po' per annunciarlo ma veramente adesso da qui a una settimana sarà una corsa di tutti i giornalisti per capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli perché adesso il Napoli è in una situazione davvero difficile e chiunque lo prenderà ha un compito non dico importante perché alla fine l'obiettivo minimo della stagione prossima sarà arrivare in Champions però avrà un compito comunque sì impegnativo perché devi risollevare una squadra forte che ha fatto un fallimento clamoroso in questa stagione quindi speriamo bene sono davvero in hype sembra che sto parlando di un film però sono davvero curioso di vedere chi sia e qui lo dico e qui lo nego se l'allenatore che arriverà sarà un allenatore che non mi piace io farò un video sfogo in cui spaccherò dei piatti davanti alla videocamera ve lo giuro perché a un certo punto la mia pazienza è al limite noi ci vediamo alla prossima sempre Forza Napoli ciao a tutti